Oh, buongiorno a voi, da vostro professor Strunz, miau miau, titolo Il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Il grande filosofo contemporaneo misogino parla alla platea gremita dei più grandi autorevoli letterati e, spiegando la sua filosofia, pone una questione dicendo È meglio il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto? Dalla folla a 1 metro sui 70 over category si alza in piedi e fa Per me è meglio se la smetti di dire cazzate. Ciao